L'arena sul mare al porto antico di Ancona si farà pronta entro metà giugno per illuminare l'estate del capoluogo. La giunta ha infatti approvato le linee di indirizzo per predisporre la nuova struttura. Un vero e proprio teatro sul mare per ospitare eventi e spettacoli sarà posizionata subito dopo la fontana dei due soli in uno spazio concesso dall'autorità portuale a metà tra il mare e l'arco di Traiano. Un allestimento fisso stagionale per consentire ai cittadini anconetani, ai turisti, ai marchigiani, a chi verrà da fuori regione di poter non solo vivere un luogo bello come quello ma anche di viverlo all'interno di uno scenario di intrattenimento che sia esso culturale, che sia esso musicale. L'arena modulabile contemplerà tre possibilità di capienza fino a 2500 posti seduti o 5000 in piedi, rassegni e spettacoli e concerti. Il cartellone, per ora top secret, sarà svelato nei prossimi giorni ma da alcune settimane sono iniziati i contatti con artisti e festival. I primi sì sarebbero già arrivati. In questi giorni stiamo chiudendo tutti gli accordi con i management piuttosto che con i promoter. Ancona è un capologo di regione e come tale deve avere l'ambizione di costruire eventi importanti, di caratura nazionale. Un lavoro di concerto, per rimanere in tema, tra comune, autorità portuale ed esercenti del centro storico. L'obiettivo è quello di lanciare il porto come location di riferimento nel panorama nazionale. Delicato il tema sicurezza e ingressi, bisognerà infatti convivere con traghetti e cantieri navali. Siamo favorevoli a questa ipotesi con condizioni ovvie che il porto non abbia un'interferenza con le proprie attività che sono attività che proprio in quel periodo sono molto dense. Ma immagino che le soluzioni siano in grado di risolvere anche queste problematicità.